Sono ancora irreperibili i due turisti danesi che occupavano la stanza vicino alla 609 dell'hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca, dalla quale il 3 agosto 2011 precipitò Martina Rossi. Si tratta degli ultimi testi chiamati dalla procura di Arezzo, sono padre e figlia. Sono testi fondamentali per l'accusa secondo la quale la giovane studentessa di Imperia sarebbe volata giù dal balcone, cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro, suicidio invece secondo i due imputati, Luc e D'Alessandro, due giovani aretini accusati di morte come conseguenza di altro reato, ossia la tentata violenza sessuale. Uno dei due scandinavi, il padre, avrebbe infatti raccontato di aver sentito un urlo spaventoso quella notte, secondo gli inquirenti di Martina, e poi una fuga precipitosa per le scale di Alessandro, sempre secondo chi indaga. Ma dei danesi ancora non c'è traccia, è stata mobilitata anche la polizia danese e l'Interpol, che però non sono ancora riusciti a rintracciarli. L'udienza di questa mattina del processo a carico dei due giovani aretini si è quindi conclusa con un rinvio, ma una strada percorribile potrebbe essere quella di un accordo tra le parti, per permettere così di verbalizzare tutte le dichiarazioni dei testi che vivono all'estero, acquisite nel corso delle indagini, tra questo ovviamente anche quella dell'unico testimone oculare, la cameriera Franzisca, che ha sempre parlato di suicidio. Procure difese degli indagati sarebbero al momento al lavoro su questo fronte. Le prossime udienze sono state fissate per il 17 e il 24 luglio.